Tempo, spazio, realtà non hanno un andamento lineare, formano un prisma di infinite possibilità in cui una scelta può diramarsi verso infinite realtà creando mondi alternativi a quelli già conosciuti. Sono Mattex, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi e riflettezze sulla domanda, e se? Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e benvenuti in questo primo episodio di una nuova serie che mi piacerebbe portare qui su questo canale. Oggi inizia la serie What If, portata in FC24. La domanda ovviamente è sempre quella. E se? Quest'oggi, con questa enfasi da osservatore Marvel, oggi la domanda è E se De Michaelis fosse diventato l'allenatore del Benfica? Parto da una grandissima premessa. Questa non vuole essere una copia di un qualcosa Marvel, ma in realtà ci prendiamo molto spunto perché l'idea parte iniziale dal creare mondi alternativi nella carriera allenatore. Siccome già avviando una carriera allenatore succedono cose molto diverse, comunque di fatto un po' torni indietro nel tempo se l'inizio in questo momento o più avanti rispetto a quando è iniziata la realtà. E poi cambiano i risultati, cambiano i giocatori, cambiano tantissime cose. Voglio però provare a aggiungere quel pizzico in più di cambiamento che secondo me può essere molto interessante. Saranno episodi tendenzialmente one shot. Se poi vi dovesse piacere la serie e magari l'episodio singolo si potrebbe provare a continuare con qualcosa in più. Ad esempio il Benfica vi dovesse piacere tantissimo, si potrebbe fare magari un secondo episodio in cui ci facciamo una seconda stagione e vediamo fin dove può arrivare il nostro buon Demichelis. Intanto per farvelo vedere, eccolo qui. Sulla mia destra forse così non lo vedete benissimo. Quella webcam di mezzo non si vede tantissimo, rimane di fatto praticamente lì. Comunque è il buon Demichelis preso, prelevato dal River Plate e messo qui al Benfica. Perché mi chiederete voi? Ma diciamo che la grande premessa che faccio prima di questo episodio è che questa carriera l'ho iniziata con le ore di prova di DFC24. Avevo l'accesso anticipato di una decina d'ore e quindi ho voluto provare a fare una carriera. Con le 10 ore di accesso anticipato volevo prendere una squadra un po' via di mezzo tra una forte e una debole in modo da poter già fare molte cose in una carriera. Avere il mercato, non dico illimitato, ma comunque già buone possibilità di investimento. Avere già una squadra solida, con una bella base. Semplicemente perché in 10 ore potevo fare ben poco. E non sapevo se poi quella carriera mi avrebbe intrigato anche per continuarla. Il momento in cui mi sarebbe poi arrivato il gioco. Ho scelto il buon Demichelis perché punta tanto sui giovani, punta tanto sui giovani sudamericani, essendo poi al River Plate. Ed è un ex difensore che me lo immagino stile Otamendi. Ed è un ex difensore in stile Otamendi. Infatti Otamendi è il buon capitano di questo Benfica. La base della squadra, della tattica, è una difesa solida, una ripartenza veloce e un attacco intenso con Cabral. Prima di farvi vedere poi il modulo e tutto quanto, vi faccio vedere i giocatori che effettivamente abbiamo in rosa. C'è il buon Franco Armani, ci serviva un secondo portiere e chi, se non il buon Franco Armani, dal River Plate. E poi Trubin, giocatore clamoroso. Portiere veramente molto molto forte. Mi piacerebbe provare, tra l'altro, a prenderlo con l'Udinese, anche se il prezzo è abbastanza alto, quindi bisognerà vedere se riusciremo in un futuro. Prestiti invece per Gomez e Soares. Tra l'altro Soares è cresciuto di 7 di overall questa stagione. Soares di 3. Comunque il portiere non è un ruolo che pecca, diciamo, in questa squadra. Persino a sinistro aumento solamente Juracek, poi vi spiegherò perché. Comunque 77 di overall, anche qui giocatore molto molto consigliato. In difesa i capisaldi sono Ottamendi con 79 e il buon Antonio Silva con 82, cresciuto di 4. Cresciuto di 4, anche Morato in difesa. 22 anni, 79 di overall, anche lui molto consigliato. Di fatto non ci sono giocatori che non vi consiglierei in questa carriera. Forse un paio e poi li vedremo successivamente. Arauco in prestito al Marsiliano 74 e poi il buon Parra, 70 di overall dalla primavera. Alexander Ba, pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco come giocatore. 42 partite, le ha giocate di fatto quasi tutte. Poi Sadiki come terzino destro e anche il buon José Mina. Vi spiego, io Sadiki lo usavo come terzino sinistro di riserva a Juracek. So che non è proprio stata una mossa delle migliori, però comunque avevo un terzino forte e già pronto come Ba e Juracek e poi Mina e Sadiki per alternarli. Florentino, ex capitano di questo Benfico 82 di overall. Sheldrup che è arrivato in estremis perché avevamo bisogno di esterni. Avevo Gouveia e Paxao infortunati. Di Maria che crollava e quindi mi serviva un esterno. Sheldrup l'avevo mandato in prestito, l'ho richiamato ed è un 74. Joe Mario, giocatore molto molto buono. Nonostante il meme di Joe Mario negli anni, lui veramente è un bel giocatore. Kokciu, ragazzi, che ve lo dico a fa? Ce l'abbiamo avuto al Feyenoord, uno dei capisaldi di quella carriera e qui me lo sono ritrovato a gratis. Non ho dovuto ricomprarlo ed è un giocatore incredibile. Poi ho Dantas in prestito alla Zed. Hatat che tra l'altro mi avete consigliato nella carriera con l'Udinese. E il giocatore non ha fatto tantissimo in questa stagione, però quando giocava comunque mi è piaciuto abbastanza. Non tantissimo, però c'è da dire che usavo molto di più Joe Mario e Kokciu. Ovviamente paragonato a loro due figura un pochettino, un pochettino, ma nella squadra che abbiamo l'Udinese potrebbe fare bene. Neto in prestito, Barrios, l'avevo preso all'Atletico Madrid e poi gli scattato. Neves, un giocatore molto interessante che io purtroppo ho usato poco perché appunto avevo Kokciu e Joe Mario in super forma, però ve lo consiglio molto perché Neves cresce e quando gioca gioca molto bene. Sulla tre quarti, attualmente ne ho tre, ho il Rafamir che giocava anche da esterno destro, più delle volte perché Di Maria spesso collassava, e Ceverry, il talentino del River. Ho giocato poco, ma quando ho giocato in super intenso, 3 assist, pensavo di essere giocato di più, onestamente. Comunque devo avere un bel giocatore, ve lo straconsiglio, l'ho preso a River Plate appunto per questa amicizia dei Michelis e River Plate perché nella mia mente mi sono immaginato un dei Michelis che non si lascia male con il River, ma parla con il River e dice guardate io ho la possibilità di andare in Europa, la possibilità di allenare una squadra molto interessante e voglio come obiettivo principale sfatare la maledizione di Bela Kutman. Vedremo se poi ci saremmo riusciti. Spoiler! E poi il buon Santos dalla primavera, giocatore pazzesco. Questo non ve lo posso consigliare di fatto perché l'ho trovato dagli osservatori, però molto interessante. Il buon David Neres, passerà la squadra Atletico Madrid all'inizio del prossimo calcio mercato. Pai Xao, 80 di overall, il giocatore che più mi ha stupito, devo dire, in questa carriera. Veramente, veramente bel giocatore. Infatti con l'Udinese mi sarebbe piaciuto provare a prenderlo, però, però, è uno di quelli che costa tantissimo. Il buon Di Maria, sceso di due punti di overall, strappa al poppaccio a tre settimane. Ha giocato parecchio, all'inizio si è infortunato, quindi si è perso qualche partita all'inizio. Poi si è infortunato verso fine stagione, quindi nel momento clou, nel momento cruciale, mi è mancato quel giocatore d'esperienza di importanza. Il buon Martin, preso a gennaio dagli svincolati perché mi serviva un attaccante. Musa in presito è cresciuto. Cabral ha fatto una stagione clamorosa. Ramos in presito. A livello di statistiche, quello che ha giocato di più è il buon Trubin con 46 partite, poi Otamendi con 45, 43 Yurasek, Kokciu, 42 Ba, 41 per Rafa e Peixiao, 39 per Silva, João Mario e Cabral, 33 per Di Maria, 30 per Florentino, 28 Morato e gli altri a scendere. Tra l'altro, cosa che mi fa piacere, è il buon Neto che ne ha giocate 25 in presito, a Rau con una giocata di 20 in presito e poi a scendere tutti gli altri giocatori. Come reti, il milionario al catore ovviamente è Cabral con 22, poi Peixiao con 15, Rafa con 13, João Mario con 8 e via. Maggior assist, il buon Rafa e poi Kokciu con 11. Il giocatore che attualmente vale di più è Kokciu con 54 milioni e mezzo di valore base, Gonzalo Ramos attualmente ancora in presito al PSG con 46 milioni, Silva, super richiesto ultimamente, Cabral, Florentino e compagnia cantanti. Andiamo a vedere ora quella che era la formazione del nostro Benfica, l'idea tattica era un gioco sulle ali con ripiega, questa singolarità delle tattiche, quindi 60 di ampiezza, 45 di profondità, manovra veloce, passaggi diretti, ampiezza molto alta, ampiezza molto alta nell'attacco. E per caso vi interessasse anche vedere le istruzioni singole dei miei giocatori, rimesso inserisciti alle spalle a Cabral, rimane in avanti, resta al limite per il cross e svaria per Rafa, ampiezza bilanciata per l'esterno sinistro, avanza per Kokciu e resta dietro, attacco equilibrato per João Mario, ampiezza bilanciata anche per Di Maria, in difesa nulla di particolare se non resta dietro in attacco per i terzini, perché ho notato che con gioco sulle ali anche i terzini sono invogliati ad andare tutti all'arambaggio e a lasciare troppo spazio dietro. Questa è di fatto la nostra formazione titolare con Trubin tra i pali, Otamendi, Silva, Juracek e Ba in difesa, cioè Mario Kokciu a centrocampo, Paiksao, Di Maria, Rafa e Cabral. La classifica in Liga Portugale ci ha visto primi da soli con 77 punti, davanti al Porto con 74, al Braga con 70, poi lo Sporting a 68, staccato l'Esto Ril con 54. Nella tassa portuguesa ha vinto il Porto, noi siamo usciti in semifinale contro proprio i campioni, contro di loro, perché all'andata avevamo vinto 2-1, poi ho staccato, non ho fatto la carriera, non ho portato avanti la carriera per un po' di tempo, l'ho ripresa e non lo so, ho notato che quando fai una partita, dopo tanto tempo, di solito la prima partita che registri, che giochi, che fai, fai fatica, fai molta più fatica rispetto alle altre, e lì non ho preso 4, quindi siamo usciti dalla semifinale, però può capitare. Coppa internazionale, tra l'altro abbiamo vinto, cosa che non mi è mai successa da quando c'è questo, diciamo, format del torneo precampionato, non più con i gironi semifinale e finale, Supercoppa, qui l'ha vinta la Manchester City 4-2, in Conference andiamo lentamente, 3-1 della Stone Villa, in Europa League vince il Newcastle in finale 3-2, e in Champions vince il Borussia Dortmund in finale contro il Sivillia, guardate chi ha battuto il Sivillia per andare in finale, proprio noi, proprio il Benfica. Noi siamo usciti lì, siamo usciti in una dolorosa semifinale, vi dico anche perché, abbiamo fatto 2-2 all'andata, al ritorno, e perdevamo 1-0, poi abbiamo fatto il gol quasi nel recupero, mi sembra all'85esimo, 90esimo, giù di lì, per andare ai tempi supplementari. Nei tempi supplementari abbiamo preso subito un gol, praticamente al 95esimo, poi appena iniziato il primo tempo supplementare, da lì ho detto, ho lavato la spacca, ci giochiamo la finale, giochiamo tutti all'attacco, tutti davanti, eravamo stanchi, eravamo cotti, non ce la facevano praticamente più i miei giocatori, tutti davanti, portano, porta dei buchi dietro, ovviamente. Il Sivillian ha approfittato, ha fatto il 3-1, e ha chiuso, e ha chiuso i conti. Agli ottavi di finale, avevamo battuto l'Ipsia 6-3 nel totale, e ai quarti la Real Societad con 3-2 nel totale. La Fasa Gironi ci ha visto primi da soli con 15 punti, davanti alla Real Societad con 10, l'Inter solamente con 5, e il Salisburgo con 4. Un girone stravolto, nel senso che nella realtà non è per nulla successo così, anzi, benfica ultimo, senza punti, senza tanti punti, facendo veramente pietà. Questo un po' mi è spiaciuto. Questo è il totale delle partite giocate, di cosa abbiamo fatto, un campionato vinto, 53 partite giocate, 38 vinte, 7 pareggiate, 8 perse, 114 gol fatti, 63 gol subiti. Di fatto non tantissimi, nel senso che sono la metà dei gol che abbiamo fatto, quindi come se praticamente ogni partita l'avessimo vinta 2-1, più o meno, più o meno, proprio a grandissime linee, a grandissime linee. Però, però, ci sono state quelle partite in cui ne abbiamo subite veramente troppi, soprattutto quelle giocate, a me quello che scocciava. Diciamo che adesso con il discorso di giocare a 5 minuti, non più a 4, che stiamo portando avanti con il nostro Udinese, un po' sta funzionando. Anche la difesa è un pochettino più solida, l'abitro fischia meno all'ultimo secondo, e questo, questo sicuramente ci aiuta. Però, però, non lo sapevamo ancora. Questo primo episodio di What If è stato un po' strano, nel senso che nei prossimi probabilmente inizieremo assieme la carriera, la magari simuleremo, faremo determinate scelte, la porteremo avanti in un solo episodio. Quest'oggi vi ho portato una carriera così, un po' diversa, semplicemente perché non ho scelto un allenatore totalmente a caso, non ho messo me stesso con le mie idee tattiche, ma ho messo The Michaelis con una sua impronta e mi è piaciuto usarlo come primo episodio, come episodio di lancio di questa nuova serie qui sul mio canale. Invito ovviamente a farmi sapere suggerimenti qui sotto nei commenti, nel senso che è molto acerba la serie, non so ancora bene che piega prenderà, quanto e se andrà avanti questa serie, quindi se avete dei suggerimenti per ampliarla, per renderla più completa, per aggiungere cose che magari potrebbero essere interessanti, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi invito a seguirmi su Instagram e nel gruppo Telegram, dove parliamo anche di carriera allenatore e tanto d'altro, vi invito ad iscrivervi al canale qual non aveste ancora fatto, per restare aggiornati soprattutto con la carriera allenatore con l'Udinese, che stiamo portando avanti, e fatemi sapere quando vorreste un altro episodio di Votif, e soprattutto con chi, quale squadra, quale giocatore, quale allenatore, avete delle idee particolari? Mi raccomando, qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto questo episodio, vi invito a sabato che uscirà l'episodio pre-natalizio dell'Udinese, con il calciomercato, avremmo tanto da fare, ci sono stati dei suggerimenti di calciomercato, di acquisti e di cessioni da fare nello scorso episodio, quindi se ancora ne avete, fatemelo sapere o qui sotto o nel video precedente, che vi lascio anche nelle schede. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Votif. So che questo primo episodio appunto è stato un po' acerbo, è stato un pochettino così, però spero vi sia lo stesso piaciuto, soprattutto vuole essere da pilota per arrivare a nuove idee, per arrivare a mettere insieme tante cose nuove. Io mi immagino questo episodio come una sorta di macchina che va avanti, una strada lineare, e man mano si aggiungono persone dentro la macchina che raccontano la propria storia. non troppe persone, perché poi ci fermano, però una macchina gigante, grandissima. Ragazzi, alla prossima, sempre qui sul mio canale, un bacione, un salutone, sempre qui. Ciao.